Ciao a tutti. Siete nel canale Impulso della Terra. Ricordatevi di iscriversi nel canale per essere sempre aggiornati di ultimi notizie. Buona visione. Una violenta esplosione, seguita da un crollo e da un incendio, ha interessato un fabbricato in località Vocabolo Canne Greche, nelle campagne di Gubbio, in provincia di Perugia. Un uomo e una donna sono morti. Tre le persone estratte vive dalle macerie. L'esplosione ha provocato il crollo di una parte dell'edificio, in particolare del sottotetto e del primo piano. Nella palazzina, ora messa sotto sequestro, si trovava un laboratorio per la lavorazione della cannabis terapeutica. Non è ancora chiaro cosa sia successo nel fabbricato annesso un'azienda. Secondo i vigili del fuoco, si tratterebbe di più esplosioni che sembra siano avvenute in un laboratorio dove viene trattata la cannabis a scopo terapeutico. A causa dell'esplosione è crollato il sottotetto e il primo piano dell'edificio. Sempre in base alle prime indicazioni, l'esplosione sarebbe stata provocata da gas GPL. La palazzina è stata messa sotto sequestro. Il fatto che la vittima e i feriti siano stati estratti dalle macerie fa ritenere ai soccorritori e agli inquirenti che si trovassero nei locali dove c'era l'attività. Gli accertamenti puntano ora a capire se l'attività, risultata in regola per quanto riguarda il trattamento della cannabis, fosse in regola anche sotto il profilo. Il monte Sinabung in Indonesia getta cenere ad un'altezza di 2,8 chilometri. Il vulcano indonesiano Sinabung durante l'eruzione di venerdì 7 maggio, ha lanciato una colonna di cenere ad un'altezza di circa 2.8 mila metri. L'attività del vulcano si è intensificata alle 9 del mattino ora locale, l'eruzione è durata 6 minuti. Una nuvola di fumo e cenere si diresse a est del cratere. Non ci sono stati ordini per l'evacuazione immediata dei residenti e non sono stati emessi avvisi per l'aviazione. Le autorità hanno ricordato alla popolazione che un'area entro un raggio di 5 chilometri intorno al cratere è considerata pericolosa. Il vulcano Sinabung è stato, dormiente, per diversi secoli, nel 2010 è diventato più attivo, poi a seguito di una potente eruzione, due persone sono morte. Ci sono circa 130 vulcani attivi in Indonesia. Il paese si trova su un anello di fuoco, nell'oceano Pacifico, una cintura ad alta attività sismica. Vicino a Figi e Tonga si è verificato un potente terremoto di magnitudo 6.1. Nell'oceano Pacifico sud-occidentale, vicino alla Repubblica delle Figi e al Regno di Tonga, è stato registrato un forte terremoto di magnitudo 6.1. L'evento sismico si è verificato venerdì 7 maggio alle 23.35 fuso orario GMT, secondo l'US Geological Survey. L'epicentro di un cataclisma naturale è stato notato 344 chilometri a nord-ovest di Pangai, Tonga, e 426 chilometri a sud-ovest di La Basa, Figi. Solo poche persone vivono entro 100 chilometri dall'epicentro. La fonte del terremoto si trovava a una profondità di 384 chilometri. Non ci sono state ancora notizie di vittime o distruzioni. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. Secondo i sismologi, circa 7.000 persone hanno avvertito un debole tremore. Non sono previste perdite economiche legate al terremoto. Il diluvio lava via tutto sul suo cammino. Inondazioni nelle strade di Medellin, Colombia. Le strade della Colombia sono state colpite da forti inondazioni causate dalle forti piogge avvenute nella capitale nel pomeriggio. Venerdì uno dei luoghi più colpiti è stato il ristorante Forma, che ha subito il crollo di un muro di contenimento e di un tetto. Inoltre, il flusso d'acqua incontrollabile ha portato via tavoli e altri elementi dell'arredamento del ristorante. Secondo i soccorritori, giovedì sera e venerdì pomeriggio sono state ricevute più di 160 chiamate di emergenza. A causa delle forti piogge registrate nella regione durante il giorno, ci sono stati diversi eventi con il servizio energetico nella zona di El Bablada. Un altro luogo più colpito dall'alluvione è stato il centro commerciale, così come altre zone. In questo settore della città, dove c'erano grandi flussi a causa dei quali diverse auto in questa zona furono distrutte e si formarono congestione. Nel distretto di Volsherechensky, c'è stato un grande incendio nel villaggio di Karakul. Secondo il Ministero delle Situazioni di Emergenza della Russia nella regione di OMSK, la fiamma proveniva dal distretto di Kolososki attraverso la foresta e l'area paludosa con canne, che si trova accanto agli edifici. Secondo testimoni oculari, un forte vento ha diffuso l'incendio nell'insediamento. Secondo i dati operativi, l'incendio ha distrutto 25 edifici nel villaggio di Karakul, tra cui uno negozio di alimentari, 14 edifici residenziali, 10 edifici, ha detto il capo del servizio stampa del Ministero delle Situazioni di Emergenza nella regione di OMSK. Secondo il Ministero delle Situazioni di Emergenza, nessuna delle persone è rimasta ferita. L'incendio nel villaggio di Karakul è avvenuto alle 13 e 15. Sul posto sono state inviate due unità di equipaggiamento antincendio e di soccorso. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, due case erano in fiamme. A causa del vento, la fiamma si è propagata ad altri edifici. È stato osservato un fumo intenso. Ora le MERCOM della Russia è coinvolta in 8 apparecchiature e 15 dipendenti. Terremoti sulla Terra. Durante il giorno, sulla Terra si sono verificati 187 terremoti di magnitudo da 2.0 a 6.1, esattamente dove potete vedere sui vostri schermi. E ovviamente un momento di positività sul canale. Nel parco naturale di Benf, nella cosiddetta Valle delle Dieci Cime Montuose, si trova uno specchio d'acqua misterioso e affascinante, il lago glaciale Moraine, le cui acque non gelano nemmeno in caso di forti gelate. Paesaggi di irreale bellezza maestosi abeti, rilievi pendii di montagne incorniciano il lago, riflettendosi nella superficie liscia delle sue acque cristalline. Accade così che la più bella sia nascosta agli occhi dell'uomo. La natura, come se, volesse deliberatamente lasciare luoghi incontaminati di straordinaria bellezza. Questo vale anche per il lago glaciale Moraine in Canada. Si trova tra catene montuose e fitte foreste sostenute dalla neve, a 14 km dal paese più vicino. Ecco perché è difficile arrivarci, ma la vista che apparirà di fronte ai viaggiatori ostinati varrà tutto lo sforzo che si trova sulla strada. Grazie per aver guardato il video. Se vi piaciuto, ricordate di mettere mi piace e iscriversi nel mio canale per essere sempre aggiornati di cataclismi della pianeta.